ciao dolci amiche che ne dite di iniziare subito con la coreografia vola se vuoi bene allora vi ricordate che l'ultimo passo era con la gamba allungata verso il lato chiudiamo dolcemente la gamba destra verso la gamba sinistra dopo tre passi 1 2 3 piccolo salto con i gomiti piegati e pugni chiusi riproviamo un'altra volta 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 salto bene proviamo con la musica e ricordatevi anche l'otto precedente poi con la musica bene ragazze è stato semplice sono certa di sì e ricordate che quando vi sentite giù basta ascoltare una canzone delle wings e vi sentirete anche voi una di noi baci